Ci troviamo allo spazio Linea Pella Milano per festeggiare dieci anni di collaborazione tra una storica conceria italiana, Dani, con sede a Vicenza, e l'Institut Français della Mod, un'importante e prestigiosa scuola che sviluppa designer e stilisti con sede a Parigi. Quello che invitiamo oggi i visitatori a fare è un vero e proprio viaggio nella creatività. Sono esposti qui i progetti più belli che i ragazzi hanno sviluppato in questi dieci anni. Abbiamo avuto il piacere appunto di festeggiare proprio in questi giorni in questo ambiente al centro di Milano e di ospitare qui appunto questo istituto e dare a vedere che appunto c'è questo connubio tra la conceria Dani e questo istituto per far sì che il prodotto pelle venga conosciuto da questi ragazzi che saranno il futuro, i futuri stilisti e quelle che saranno le maison importanti di tutto il mondo. Dani per noi è proprio rappresenta questo partner italiano ideale che permette di rafforzare il ponte tra Milano e Parigi, ovviamente l'IFM è una scuola francese ma come dicevo è una scuola aperta su tutto il mondo, abbiamo la seconda cittadinanza rappresentata all'IFM sono gli italiani e quindi abbiamo anche tantissimi studenti italiani, poi studenti europei, studenti di tutti i continenti, dall'Australia al Messico e quindi siamo molto fieri oggi di presentare un best off di questi studenti, studenti italiani, dal Venezuela, dalla Francia, dagli Stati Uniti eccetera in questa mostra molto speciale qui a Milano durante Linea Pelle.